Ciao a tutti e bentornati alla Kokorozashi. Dopo il video di introduzione al nuovo anno eccoci con il primo video in ottobre, come promesso. Quello che state per vedere è un mini video riassunto dedicato al secondo Open Stage Kokorozashi che ho tenuto presso il mio dojo. È uno stage che appunto è alla seconda edizione, ne farò sicuramente anche la terza edizione quest'anno a maggio, maggio 2025, ed è uno stage che è aperto a tutti i praticanti di arti marziali, a prescindere dallo stile, chiaramente che sia uno stile più orientato verso lo striking. Ho avuto il piacere in questa seconda edizione di avere tra i partecipanti persone venute anche da molto lontano, per esempio da Genova, oppure da Sud Italia, ma anche dalla Germania, nonché dalla Trieste e il Veneto. Se siete interessati a partecipare anche voi a questo stage nella sua terza edizione, seguite i miei social per restare aggiornati sulle date. Vi auguro una buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!